Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juve. Negli ultimi tempi la Juventus ha sofferto la crisi economica e societaria. Per questo la Juve guarda anche ai giovani. Come nel caso di Connie De Winter, che è della Juve, ma è in prestito all'Empoli. Connie De Winter sta crescendo all'Empoli, ha già giocato 8 partite in questa stagione. Winter è molto versatile, potendo giocare sia come difensore che come alla destra. La Juventus è molto interessata al futuro di Connie De Winter, sia che si tratti di tornare a Torino a giugno, o forse di scambiare il difensore per sempre, visto che ci sono anche altri club che guardano al difensore. Connie De Winter ha 20 anni. E' incredibile 1,91 di altezza. Scrivete nei commenti qual è la decisione giusta per il futuro del giovane talento bianconero. Voglio sapere la tua opinione.